Finalmente dopo tanto cercare ho trovato i pilottini in silicone perfetti per la friggitrice d'aria è scritto anche qua sono della Leque, è un brand spagnolo specializzato nel silicone e fa stampi di tutte le forme e di tutte le misure questi sono perfetti per fare i muffin ma puoi fare veramente qualsiasi preparazione ne arrivano 6, sono in silicone trasparente e a differenza di tutti gli altri pilottini questi non crollano quando tu li metti all'interno non esce il contenuto durante la cottura perché nel bordo superiore c'è proprio questa struttura che lo mantiene bello rigido e non fa assolutamente fuoriuscire il contenuto durante la cottura ci permetterà anche con grande facilità di andarli a posizionare sul fondo del cestello li possiamo usare anche nel forno naturalmente sono 6 e sono fantastici trovi il link in descrizione